Supermercati Deco, la spesa in un clic, la tua scelta quotidiana anche online. Su supermercatideco.it fai la spesa con il tuo pc, smartphone o tablet, in ufficio, da casa, quando sei in giro. Oggi la tua spesa è più comoda, semplice e veloce e passi a ritirarla nel tuo negozio di fiducia quando ti è più comodo. Registrati, scegli, ordina e ritira. Su supermercatideco.it scegli tra tantissimi prodotti, frutta e verdura, formaggi, salumi, carne, pasta, olio, bevande e caffè. Decidi tu quando passare al tuo supermercato Deco per ritirare la spesa. Paghi come vuoi direttamente in negozio, con la spesa online, in più, accumuli punti in modo semplice e automatico. Scopri lo sconto riservato a te per la tua prima spesa online. Più tempo per te, più tempo per tutti. Supermercati Deco, la spesa in un clic. La tua scelta quotidiana anche online.